Romina Power condivide con i fan un momento delicato, spunta una foto che fa riflettere, ecco di cosa si tratta. Romina Power oltre ad essere una cantante molto affermata ha anche una donna dalle mille sfaccettature. Elegante e raffinata, di classe, ha sempre pronta a mettersi in gioco e sa bene cosa dire al pubblico su ogni situazione. Si è ritrovata molte volte al centro del mirino e del gossip, ma ha sempre saputo cogliere l'occasione per dire la sua e essere più a trasparente possibile. Molto attiva anche sui social, condivide con i fan molti momenti delle sue giornate. Romina Power, la cantante spiazza i fan, che messaggio foto. Seguita da quasi 250.000 follower, la cantante dall'animo grande e un'intelligenza non indifferente riesce sempre ad attirare l'attenzione del pubblico che la supporta e sostiene in ogni situazione. L'artista non ha bisogno di mostrare le sue forme prorompenti, per lei conta soltanto condividere la sua vera essenza e il suo pensiero. Cosa attraverso l'ultimo post ha affermato che E lo ha fatto pubblicando una foto di una tazza di tà che è diventata virale ed ha fatto riflettere i fan che la seguono. In tanti non hanno perso occasione di commentare con messaggi come Poi ancora Ancora una volta la cantante ha fatto colpo ed ha lasciato il segno. Molti si chiedono quando sarà possibile rivederla in televisione o alle prese di qualche spettacolo, ma per il momento non ci sono notizie al riguardo. Maggiore Maggiore A differenza di tante altre persone, la Power non ha nessuna intenzione di intervenire nei salotti televisivi per rilasciare dichiarazioni che possono scaturire altri gossip sul suo conto e sulla sua famiglia. La cantante predilige la pace interiore, l'altruismo e la gratitudine nel mondo. Maggiore